salve nel video precedente abbiamo acquisito le nozioni principali del montaggio in questo passiamo ad esaminare la timeline più in dettaglio ma sempre parlando genericamente dividiamo i compiti parlando di operazioni sulle tracce nella loro totalità e di operazioni su singoli edit tracce sulla timeline ritroviamo il tipo il numero di tracce impostate nel progetto ma se possono rinominare eliminare aggiungerne altre ridimensionale spostarle una sopra l'altra spostarle sopra o sotto le altre è importante perché la traccia superiore è quella visualizzata nella finestra compositor e quindi la traccia attiva questo ordine è importante ma possiamo cambiarlo a piacere ogni volta che ci serve e questo è un secondo concetto di sovrapposizione diverso da quello visto per le clip che è in realtà una sovrascrittura che permette di giocare con più tracce parallelamente senza che una ne influenzi le altre a parte la priorità che assume quella più in alto per esempio questa sovrapposizione di tracce è alla base del montaggio jcat e lcat oppure consente l'uso di b roll di multi ham di picture in picture split screen eccetera ma l'uso più importante del multilayer è il compositing cioè riunire più immagini ognuna nella sua traccia in un un unico output che vediamo sulla finestra compositor le tracce possano essere armate cioè attive in modo da poterle modificare o aggiungerci effetti che i frame o d'altro oppure possono essere disarmate cioè bloccate in modo da proteggerle dalle modifiche mentre modifichiamo altre le tracce possono essere intrecciate in modo che per esempio un keyframe applicata ad una agisce similmente anche sulle altre a cui è legata oppure possono essere fuse insieme con un metodo di overlay sulla timeline rimangono separate ma l'output visualizzato sulla finestra compositor risulterà dalla sovrapposizione delle tracce coinvolte una traccia può essere resa non riproducibile in modo che nell'output non ritroviamo né video né audio è facile confondere lo strumento di riproducibilità con quello del mute perché l'effetto sembra simile cioè il non vedere o non sentire il playback della traccia ma la differenza è importante disabilitando la riproducibilità nessun dato viene processato così per esempio se renderiziamo un progetto con tracce audio e video ma le cui tracce video sono rese non riproducibili otterremo un file solamente musicale i dati video sono stati semplicemente saltati con il comando mute invece tutte le tracce vengono comunque processate e sono quindi presenti ma sono rese vuote o silenziose prima di essere inviate all'output se facciamo il rendering rendendo silenziate le tracce video otterremo un file che ha comunque la parte video anche se solo una schermata nera o vuota mentre sentiamo normalmente l'audio l'utilità di queste opzioni ha a che fare con gli overlay e i plugins e la loro condivisione fra varie tracce ma è argomento troppo avanzato per esaminarlo in queste note introduttive è necessario riferirsi al manuale per avere un approfondimento altre operazioni che si possono fare sulle tracce sono l'ondo le etichette e operazione importante la selezione di una regione di cui abbiamo già parlato precedentemente sulle tracce audio si possono aggiustare anche il ritardo livelli sonori il pan e la visualizzazione delle waveforms sempre più importante sta diventando la gestione di riprese multi camera magari con l'automatismo della sincronizzazione basato sulle waveform o sul time code passiamo alle operazioni sugli edit anche per gli edit possiamo colorare rinominare copiare incollare selezionare uno più edit o spostarle lungo la stessa traccia o in altre nello spostare gli edit si può usare lo snapping o calamita in modo da poter accostare le clip con precisione e velocemente senza vuoti o sovrapposizioni si possono raggruppare più edit per poter viagire contemporaneamente o si possono creare delle nested clips chiamate anche sub clip per poter modificare ed esportare un gruppo di edit come se fosse una sola clip un importante strumento è il taglio o split detto anche blade scissor o razor a seconda del programma permette di dividere un edit in due per poter viagire separatamente altro importante strumento è il trimming che permette di variare i bordi di un edit head e tail estendendoli o accorciandoli per fare il trim dobbiamo usare delle clip che sono ricavate da una parte dei sorgenti quindi non nella loro totalità in questo modo abbiamo a disposizione ancora dati da usare nei movimenti dei bordi ci sono vari tipi di trim ripple roll slip slide e edge sono tutti riconducibili alle modalità inserimento o sovrascrittura con la conseguenza che possono variare la lunghezza complessiva della traccia o lasciarla inalterata una funzione comoda del trim e poter visualizzare nella finestra compositor la vista sdoppiata dei frames degli edit adiacenti split cioè il tail di una clip con il head della successiva così potremo valutare con precisione e immediatezza visiva il risultato dello spostamento dei bordi sia sull'edit di cui facciamo il trimming che su quello accanto ovvero possiamo giocare sul match point come si dice di ogni edit sulla timeline possiamo trovare il corrispondente sorgente nella finestra risorse proprio come abbiamo precedentemente visto che dalla finestra risorse possiamo individuare il relativo edit sulla timeline quella abbiamo chiamato l'interview sono funzioni utili quando abbiamo a che fare con molti edit su più tracce infine anche per le operazioni sugli edit vale il comando di ando che è sempre molto comodo oggigiorno i vari programmi hanno aggiunto tante opzioni in più molte delle quali automatizzate per essere più veloce e comode da usare io ho riportato solo le più importanti tecniche manuali per l'editing di base proseguiamo il workflow dell'editing con il post processing o compositing esistono centinaia di plugins e strumenti per effettuare operazioni di post processing indicherò solo alcune linee generali conforming cioè riportare il suo sorgente originale il montaggio fatto offline su proxy o su di ai digital intermediate dissolvenze e transizioni è un'operazione classica e sempre molto usata per sfumare una clip nella successiva oppure fare dissolvenze al nero o dal nel caso di dissolvenze incrociate una delle tante transizioni bisogna capire il primo edit deve avere ancora dati del sorgente a disposizione proprio come nel trim altrimenti usa l'ultimo frame fisso mentre il secondo edit parte cambio formato si intende sia passare da un aspect ratio a un altro che ridimensionare il frame esiste un plugin diversi per ognuno dei compiti si parte sempre da quello impostato nel progetto ma niente ci impedisce di variarlo in ogni momento velocizzare o rallentare il filmato bisogna stare attenti all'eventuale sincronia con l'audio raddrizzare o esaltare le distruzioni dovute alle lenti di ripresa stabilizzazione del filmato motion tracking di elementi del filmato zoom panoramiche e rotazioni alcuni programmi come se nel rgg sono molto potenti sotto questo aspetto permettendo di ottenere dei veri e propri movimenti di camera continuiamo maschere isolare intervenire solo su una parte del frame lasciando inalterato il resto è alla base di molti effetti speciali estazioni di chiavi color key e luma key è un altro modo di isolare una parte del frame ed eliminare il resto color correction e color grading un argomento così vasto che potrebbe fare storia a sé riduzione del rumore titoli scritte grafiche varie argomento vasto importante motion graphics anche questo è un argomento molto grosso audio mixing anche questo argomento così vasto e potrebbe fare storia a sé per le tracce audio sono importanti la sincronizzazione della colonna sonora degli effetti e rumori e del parlato e il livellamento dei volumi delle varie clip tutta la gestione del suono e della sua interazione la parte visiva è tanto complessa quanto importante e gratificante se si riesce a ottenere un buon risultato continuiamo le operazioni fondamentali di sound editing sono la normalizzazione la compressione e l'equalizzazione ancora finishing significa rispettare i formati i limiti e le regole del progetto del committente o del media di destinazione si parla di controllo qualità infine ma l'istrumento più importante e potente tutti plugins e gli strumenti citati finora devono sopportare i keyframes che li rendano dinamici ovvero con parametri variabili nel tempo questo è forse l'aspetto più potente di se nel rgg in cui tutto il ripeto tutto è che fremmabile all'aumentare dei plugin applicati le prestazioni la fluidità possono diventare problematiche si può ricorrere allora al pre render detto anche background rendering che crea una sequenza di immagini fisse con incorporati gli effetti la lettura è sempre veloce il post processing ha un suo ordine predefinito ma in realtà si può continuamente ritornare sui propri passi e anche ritornare alla fase di editing se occorre nell'ambiente cinematografico si parla di round trip work flow rendering finale il passo finale che completa tutto il workflow visto finora è il rendering del progetto per ottenere il filmato che ci interessa si parla anche di delivery cioè esportazione oppure di mastering se vogliamo creare un master di qualità da cui ottenere vari rendering spesso ci sono percorsi guidati per la creazione di dvd e blu ray è fondamentale aver chiara la destinazione del nostro film perché da questa deriva la scelta fra i tantissimi codec da usare e i tanti possibili livelli di qualità che vogliamo per il nostro lavoro per esempio per un video da caricare su web basta un formato compresso e un bit rate abbastanza piccolo in questo modo se non c'è un po' di qualità con l'ottenimento di piccole dimensioni che permette un upload e uno streaming veloce se invece lavoriamo per il cinema non possiamo fare sconti sulla qualità e usare codec non compressi e bit rate elevati non importa se ciò richiede enormi quantità di spazio di archivazione e pc molto performanti data la quantità di codec di formati contenitori di compressione di configurazioni della qualità solo l'esperienza potrà dirci quale tipo di render si adatta al prodotto e vogliamo ottenere quindi occorre fare tante tantissime prove per avere un'idea dei risultati che possiamo ottenere si potrebbe pensare di ottenere sempre un film di alta qualità un master cioè da cui di volta in volta ricavare varie copie per diverse destinazioni è una buona scelta però anche questa dei limiti il primo dei quali è la necessità di tanto spazio di archiviazione inoltre richiede l'utilizzo di sistemi molto prestanti e costosi e di maggior tempo a disposizione a proposito di spazio occupato la prima cosa da fare dopo il rendering è salvare il film anche in un altro hard disk come copia di backup non è solo un consiglio quindi una cosa facoltativa che si può anche non fare no è proprio l'unico modo intelligente di operare perché in caso di problemi ci permette di non perdere tutto il lavoro fatto e dover ricominciare da capo in molti programmi come se nel rgg è possibile sfruttare il batch rendering per accodare vari lavori e può far partire il rendering solo ad orari prestabiliti per esempio di notte è possibile anche far partire il rendering da linea di comando senza la necessità di aprirsi nell'rgg con la sua interfaccia invece per velocizzare il rendering che di solito una fase molto lenta impegnativa per il sistema si può usare un codec accelerato via hardware oppure avviare una render farm che permette di sfruttare più cpu e più computer collegati in rete per distribuire calcoli necessari bene abbiamo finito e vi invito ad andare al sul sito web di senellera gg per conoscerlo meglio e che ne so magari scaricare una versione imparare ad usarlo